Dottò, sono Peppino. Io ho bisogno di te. È successo qualcosa? Il figlio mio stanotte è uscito per una fatica. Non è tornata. Stai pensando in casa, va? Sangue chiama sangue. Peppino, sapevo che saresti tornata. Lasciamo perdere la vita, ma è pericoloso. Non ci stai? È una guerra in piena regola. Avete agitato all'acqua della pozzangara? E ora il sangue sta diventando caldo. Due. Più due. Più uno. Cinque. Cinque è il numero perfetto. C'era un bordello, un bordello. PURE EVIL